Cari ragazzi, il vostro magister è stato non poco versutus, approfittando della Pasqua di risurrezione che nuper avete festeggiata, ho ottenuto un permesso speciale, colà dove si fuote ciò che si vuole. Insomma, la faccio breve, mi è toccato relinquere i dulcis ocelli della mia Laura, nella soprannaturale qui est e l'aldilà, per ritornare giù, in destra, lacrimarum valle. Per me non più, ho già dato abbondantemente, e mettermi a dialogare un po' con voi ragazzi del novello ventunesimo secolo. Che cosa ci guadagno? Beh, dovete sapere, non sono proprio ubicato nel più alto cielo del paradiso, qualche peccatuccio da scontare mi è rimasto, una buona nazione in più, mi hanno promesso, potrebbe giuvare al mio avvicinamento oltremondano alla mia Laura. Il vostro magister ha subito pensato di darmi da leggere un libro dedicato a voi ragazzi moderni. Nichilismo è l'accusa che vi viene lanciata da un autorevole filosofo e psicologo. Che sarà mai? Chiedo voi, la situazione è proprio così come la descrive Magister Galimberti? Ditemi qualcosa, vi prego. I tempi sono così cambiati in poco meno di sette secoli? Grazie.